Regione Lombardia dal via libera ai fondi per prevenire il rischio idrogeologico 150 milioni di euro per un totale di 177 interventi per la provincia di Milano. Si tratta di ben 16 milioni e 700 mila euro destinati a 18 cantieri che procederanno al completamento di alcune opere necessarie alla difesa del territorio e appunto alla sicurezza idrogeologica. Tra i comuni destinatari di fondi nel nostro territorio anche Cisliano e Albairate per un totale di un milione e mezzo. La Chiarella, Binasco e Sedriano a cui ne spetteranno 500 mila. Un ulteriore intervento da parte di Regione Lombardia per questo ringraziamo l'assessorato di Pietro Forone a difesa del territorio per la difesa idraulica. 150 milioni messi in campo da Regione per oltre 18 progetti per quanto riguarda Milano e provincia come Albairate, Cisliano, Sedriano sono solo alcuni dei comuni che sono interessati da queste importanti risorse. Questo vuol dire difendere il territorio dai rischi idrogeologici per dare maggiore sicurezza e aiuto innanzitutto agli enti locali ma soprattutto alla comunità che quindi avranno meno problemi legati chiaramente a tutte le condizioni meteorologiche e non solo.